E' bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avrete sicuramente letto nel titolo Avrete le sculate più forti e più fighe di questa settimana Se il video vi piace, se vi diverte, se vi strappa un sorriso Lasciate subito un bel mi piace di supporto Cerchiamo di arrivare almeno a 50 like per la prossima reaction E niente, io vi auguro una buona visione Con tutto l'affetto possibile e immaginabile Non siate tirchi, lasciate sto cazzo di mi piace Tanto regà e un tastino click e mi fate felice Noi ci becchiamo per un prossimo video Bella regà, buona visione Ciao 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 Oh Eccolo non lo voglio guardare che non lo voglio guarda Non lo voglio guardare per favore da milito da c'è dammi un po Qualcosa di buono no a pepe la festa Argentino atti da maguero si è a guero meno male ragazzi aguero almeno almeno 89 aguero Mi sento soddisfatto mi sento soddisfatto sinceramente Oh my god, I'll take I'll take it Okay, I don't even know how much is going for but I always think of Cavani not being you know I don't think I'll use this card. Do you think I should sell it or keep it? Okay, come on, baby Rudy purple flair make it happen Fuck off 3 2 1 GO OH SHIT OH SHIT LET'S FUCKING GO LET'S GOOOOO I THOUGHT IT WAS FUCKING LAST EATED DIDN'T THINK SO I did not like to just open these free ones yeah theyre shit yeah any inform banger is gonna pop up now oh my god IS THAT A WALKOUT IN A FREE ONE Matt, I've got a fucking walkout in one of the free ones, no way! Shit. Shit.